Non è solo un big match, è uno spettacolo, ma alla fine vince il Martina 3-1 a Ugento e va più 6 sulla seconda in classifica. Finisce con i tifosi biancazzurri oltre 100 in Salento che cantano, la capolista se ne va. La partita prima però è stata bellissima, al secondo minuto di gioco subito la rete del vantaggio e Delgado che a giro trova l'algoal dell'1-0. Dopo 22 minuti Mangialardi ci riprova, dà posizione defilata, il pallone però attraversa tutto lo specchio della porta senza finirvi dentro. La prima vera occasione dell'Ugento che inizia a macinare gioco negli ultimi 20 minuti del primo tempo è al 28esimo Rodriguez al volo da posizione buona. Calcia troppo alto, al 38esimo invece la botta di Cristiano Ancora risponde bene De Luca con i pugni e si salva. Nella ripresa il Martina cerca di raddoppiare, Delgado al quinto minuto di gioco tira a giro ma questa volta tira alto. All'ottavo è Cannito che va vicino al gol di testa sul primo calcio d'angolo dei Biancazzurri. Più Ugento nel finale di primo tempo, più Martina in avvio di ripresa. Ci prova però anche Rodriguez al tredicesimo per i padroni di casa, al ventesimo la prima di due occasionissime del Martina per chiudere il match. E Cappellari questa volta tira a lato, subito dopo ci prova anche Delgado dalla stessissima posizione. Lui però calcia alto, alla mezz'ora Ancora la chiude virtualmente in contropiede. 2-0 è partita che sembra in ghiaccio, non è così però perché Escobedo la riapre due minuti più tardi, 2-1 è al trentacinquesimo. Serve un super magi per dire di no a un Ugento che ci prova in tutti i modi a chiudere veramente la partita. Al quarantasettesimo minuto della ripresa, dopo due minuti di recupero, una rete folle di Cappellari probabilmente non cercata, un rinvio che beffa un incolpevole De Luca. Finisce 3-1, il Martina va in fuga, all'Ugento restano gli applausi. È stata una partita bellissima. Grazie a tutti.